Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera reto tostradale toscana e sulla FIPILI. Si segnala pioggia in A1 tra Sasso Marconi e Ceprano e sulla variante di Valico, in A12 tra Pisacentro e Rosignano, in A11 e in FIPILI lungo tutto il percorso. Per quanto riguarda le statali, sulla 12 della Betone del Brennero, fondo stradale dissestato in entrambe le direzioni tra Borgo Ammozzano e Chifenti. Sulla 73 Senesa Retina, fondo stradale scivoloso in entrambe le direzioni tra Olmo e la variante di Arezzo Sud. Sulla Aurelia, fondo stradale dissestato 4,6 km prima di Cecina Sud in direzione Genova. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!